Un'operazione perfettamente riuscita, è stato ricollocato al suo posto un bivacco che venne distrutto da una tormenta di neve qualche anno fa, un presidio per chi ama la montagna e quindi aumenta la sicurezza. Sì, un'attività di sistema che abbiamo coordinato noi dell'Agenzia regionale di protezione civile della regione Abruzzo, ma che comunque ha coinvolto tantissimi enti e istituzioni a partire dall'esercito italiano sia con il comando militare esercito e con ovviamente il reggimento Antares che ha fornito l'elicottero CH-47 che ha portato in quota il bivacco, ma anche con i vigili del fuoco che hanno contribuito proprio all'installazione del manufatto che serviva per poggiare il bivacco, della Guardia di Finanza, delle tante realtà private che hanno contribuito materialmente alla realizzazione del bivacco stesso e inoltre dal Consiglio regionale, nelle persone dei consiglieri Massimo Verrecchia per Paolo Petrucci e Carla Mannetti che si sono fatti parte di l'igente per raccogliere le risorse e consentire questa operazione. Un'operazione complessa perché poi di fatto si tratta di mettere insieme tante realtà differenti però che convergono tutte nell'interesse primario e principale che è la salvaguardia della vita umana perché quel bivacco da oggi, non lo faceva più da oltre vent'anni, da oggi è di nuovo un riferimento per chi frequenta le montagne e dovesse trovarsi in difficoltà.